Monsieur Agnelli, mon garçon reste alla Juventus! Ma signora Rabiot, ma mi scusi, ma noi lo vendiamo lì al Manchester United e suo figlio può diventare davvero un giocatore d'alto rango nella Premier League? E soprattutto incassiamo 20 milioni perché abbiamo talmente una sfiga ultimamente tra Pogba, Chesni, Di Maria. Io e mamma Lukaku fare buon lavoro con questi giocatori di Juventus! E dunque signora, per favore, per favore, le chiedo per favore, no, io non posso perché il mio garçon, per me, ha da rester la Juventus per che moi j'adore la vie qui in Italie! Dall'altra parte, intanto, a Napoli, a Bascia, in meridione, De Laurent disse Uè, avete visto o no? Voglio dire che io non spendo solo un pappone! Eh! Intanto gli abbiamo dato 5 pere domenica con Verona! Eh! Hai visto che la maglietta di Napoli stamattina come bella l'uccicante! Eh! E adesso, aspetta! Perché ora viene pure il francese che sta arrivando, un don belè! E' stato accorto che ci ha già parlato con chi là, con Carnevale, chi fa festa ogni anno a Carnevale, vabbè! A Carnevale! E chi è questo cavolo? Non so quanti milioni per Raspadori! Io l'ho già detto! Guardi, ma che è questo strunzo! Din don, din don, din don! Raspadori! Non l'ha fatto col! Ma che boh! Per me 30 milioni sono assai! E dall'altra parte Carnevale! Vabbè! Allora si può trattare! Si può trattare! Ecco! Così stanno andando le cose nel mercato! Tribù rossoniera! Tribù di gente vera! Buongiorno! E buon 18 di agosto a tutti e a tutti! E bentornata! E bentornato qui sul canale del Marietto! Milanista! Ebbene! Oggi ho voluto iniziare con questo nuovo sketch! Come ogni giorno c'è lo sketch della mattina! Ormai siete abituati! Se non sono sketch sono le frasi riflessive e motivazionali! Quindi in questo canale se ancora non hai messo il like! Se ancora non sei iscritto al canale! E se ancora non sei abbonato! Ma che persona sei? Cioè dimmelo! Ma cosa vuoi quella serietà? Vuoi quelli là che sono tutti lì in giacca e cravatta! Tutti vestiti! O che vi dicono le cose seriamente! O che vi mettono dei titoloni! Per poi parlare sempre della fuffa! Ecco! Almeno qua ti fai due risate! Tanto le notizie sempre quelle sono! Non è che io me ne invento di sana piano! Uè uè! Diego Armando Varalone è resuscitato! Non mica... C'hai capito? Non è che stiamo a chistunivello! Ok! Allora! Buongiorno! Buongiorno a tutti e a tutti! Intanto ringrazio tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale davvero! Per essere entrati! E per tutti coloro che si stanno abbonando da 099 a 2499! Ce n'è per tutte le tasche! E soprattutto perché ci sono dei benefici! Il fatto di abbonarti a questo canale significa far parte della tribù ufficialmente come membro! E questo cosa significa in linea di massima? Il fatto che hai dei privilegi come per esempio partecipare alle mie live direttamente con me e non solo nella chat! Per dire la tua! Per poter eventualmente proporre anche delle iniziative tue personali! E allo stesso tempo diventare un punto di riferimento anche per tutti gli altri! Quindi è importante che tu ti abboni a questo canale per far sì che questo progetto diventi sempre più grande! Per diventare una tela del ragno che possa arrivare da ogni parte come Spider-Man! Detto questo allora iniziamo subito con i nostri giornalacci di oggi! Cominciamo proprio da tutto Ruttosport di Torino! Perché anche oggi si mangia il suo bel grissino! Filo Juventino e Agnellino! Allora, allora, allora! La mamma non ci sta! La mamma di Rabiot non vuole sapere niente! Infatti in grande, nel giornale di Torino cosa volete che c'è? La Juventus ovvio in prima pagina! Gli El Cananielli mungono e quindi... Mamma mia! In grande c'è Rabiot così! Non lo sa manco! Il figlio secondo me frastornato! Come i bambini! Tin-don! Ninna-na-na-ninna-oh! E lui... Dove vado? A Torino? A Magis! A Torino? Magis! Dovrà rimanere a Torino! Praticamente Veronique Rabiot fa saltare il trasferimento del figlio con richieste economiche ritenute eccessive dallo Unite! L'affare avrebbe fruttato! 20 milioni alla Juventus che ora deve frenare sul mercato! Paredes congelato! Per Depay resta l'ottimismo! Ma... Allora... Meno male che chi mi segue tutti i giorni ogni mattina uo uo ed ogni sera uo uo... Cioè... Depay dicevano ieri che stava arrivando a Torino! L'altro sta per atterrare! Ragazzi... Ma la finiamo di dire cazzate! Poi... Puoi dite che io non ho ragione! Ma... Meno male che ci sono le testimonianze! Basta che vi andate a vedere i video ogni mattina mia che io leggo le prime pagine di ogni giornale più venduto d'Italia! VENDUTO d'Italia! E dunque... Depay resta ottimismo! Ma come? Io già ieri sera mi aspettavo che sbarcava lì a Caselle! Vabbè... 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 Grandi venditori di fumo! NONBELERRASPADORI! Doppietta Napoli! IAM BELLEA! UNITE 1425 miliardi per vincere due coppe! Non parlate però dei soldi sperperati dalla Juventus nelle plus valenze! Eh... Caro tutto rutto sport de Torino! VIVAIO BANCOMAT INTER! Certo! Ma parlate sempre degli altri! Beh che sull'Inter non è... Parare sulla croce rossa in questo momento! 160 milioni in cinque anni! Adesso dopo la vendita di 20 milioni! Cioè di Raul Casadei con tutta la sua banda! Al Chelsea! Cioè un giocatore che non ha mai giocato in Serie A! A me... Puzza di bruciato! Scusatemi eh! Non so voi! Però un minimo di cervello! Se uno un minimo di senso critico! Allora scusate ma... Tukaku l'anno scorso l'hanno venduto 115 milioni al Chelsea! Ritorna! L'anno dopo 8 milioni in prestito! All'anno! Casadei! Giocatore della primavera 20 milioni! C'è qualcosa che non mi torna eh! Io poi adesso non è che voglio fare sempre complottista! Però ci sono delle operazioni sull'asse Inter-Celsi che sinceramente andrebbero a mio avviso indagate! La lascio lì! Corriere allo spot di Roma! Allegri aspetta De Pai! Aspetta! E' lì ancora che sta aspettando! Da tre giorni che sta aspettando a casella! Non sta facendo manco gli allenamenti! E là... Oh ma arriva... Che poi adesso entra qualche Livornese e mi dice... O che tu non fai mica l'accento quello giusto! Tu quello che fai di Firenze! Allora io faccio il Fiorentino in questo momento! Un po' fa il Livornese perché non lo so fare! Ok? Allora ti dico da fuori... Io so il cugino Allegri! E vivo a Vinci Provincia di Firenze! E vini vicino a Firenze e ti dico il mio cugino Allegri stai aspettando a De Pai! Allora Rabiot blocca Paredes! Non ti muove! Il centro avanti ha scelto imminente il suo arrivo in bianco nero! Anche lì era imminente! Era già praticamente all'aeroporto casella! Già stavo mandando un inviato anch'io! Va che stai arrivando a De Pai! Non fai quando male! Poi il PSG apre al prestito dell'argentino! Ma il francese è un caso! Rabiot! Non mi fai arrabbiare la Juventus! La società più nobile e più corretta d'Italia! Per favore! Non fai questo sgamberto a questa società così grande grande grande! Io ho sentito grande 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 e ho pensato a te! Ve l'ho detto che quest'anno non succedeva ma è successo che il Milan è diventato campione d'Italia! E ora sono cacchi vostri! Scatè Napoli! In grande il Corriere del Spò! Scatè Napoli! Scatè Napoli! O Napoli siamo scatrati! Prese un don belè! Rasfatori un basso! E si insiste pure per Keylor Navas! Per chi lo strunze Donnarumma che non entra neanche nei primi dieci portieri del premio Iacin! A differenza tra i chilo Romilana e Magnana che chilo si che è un portiero buono! Eh! Noi vogliamo pigliare Navas! Che chilo è stato un po' un cazzato là eh! Attenzione attenzione battaglione battaglioni! Può arrivare pure Keylor Navas! A Napoli! Dell'Orendissi il più attivo sul mercato! Dal Tottenham ecco la mezzala! Oggi il francese a Roma per le visite nuova offerta al Sassuolo per il giovane attaccante 30 milioni e bonus corretti! I corretti sarebbero col caffè che visto che è napolitano trovano poche di caffè! Carnevale dice sì a fare Keylor in Sembei! Poi Mou prenota Belotti e libera Shomurodov! Il Sassuolo e Berardi per sempre fino al 2027 quindi ciao! Berardi vi saluta a tutti quanti! L'Europa profuma di viola ecco la stasera gioca la Fiorentina per l'andata di playoff di Conference League contro il Tuente si prevedono almeno 20 mila persone al Franchi e tutti puntano su Jovic! Cristiano Ronaldo basta bugie! Su Instagram la ribellione di CR7 l'annuncio delle 100 notizie uscite su di me solo 5 sono vere e anticipa che rivelerà il suo futuro in un'intervista! Mistero attorno a CR7! Mentre la Gazzetta dallo Sport di Milano di che cosa apre oggi? Mi consente del Monza non vedo neanche un articolo ma come? Noi che siamo la squadra dell'Avrianza la squadra più importante in questo momento Lombardia dopo 150 anni nel Monza ti hanno portato in Serie A perché io sono Silvio il presidente numero uno più titolato al mondo e invece in prima pagina mi devo vedere sempre questi bianconeri della Juve! io adesso devo chiamare il direttore direttore della Gazzetta allora cosa mi conviene? io non so io ti ho invitato i Bunga Bunga lì in Sardegna cioè io almeno un paio di articoli al giorno nel Monza li devo leggere in prima pagina cos'è? oh ma che non ti pago più la madre? vabbè dai ciao ci sentiamo eh rubi lasciala lì dove vabbè 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 che cazzo mi fa dire questo qua che cavolo Vlaovic Max ci penso io i gol del Serbo sempre più importanti per Allegri dopo gli infortuni dei Bic e in attesa dei rinforzi che uno è bloccato parete scongelato Origi prenota il Aldecollo l'attaccante ideale per il gioco del diavolo volare con Origi speriamo 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 poi in basso c'è un mistero per Gosens in 8 mesi 232 minuti Di Marco lo sorpassa ma lotta ma lotta però mi abbiamo detto che era uno dei telsini più forti sinistri del mondo e io presso di Atalanta io spendere soldi io spendere 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 però tu cosa fai? ma non lo so io ma è una esplicazione una esplicazione uè Zang ma se tu mi dai soldi del cazzo quelli del Monopoli ogni volta questi qua poi lo vedono se ne accorgono e non ne rendono più e quindi è meglio di Marco che quelli è un pirla è un giuvinò ti fa pure l'Inter è un cretino e quindi lo facciamo giocare più a lui e allora dove le vendere? dove le vendere? e tu sapete che io ho 250 milioni di creditori che mi chiedono soldi mattina e notte e io devo capare devo capare un igloo un igloo con chimesi come voglio bene raga ma guardate ma io voglio bene l'Inter io non odio verso l'Inter veramente ci sono tanti che hanno lo odio cioè per me la Juve è più è più io non odio per esempio perché l'Inter è talmente una squadra di pagliacci è talmente un circo che mi fa solo ridere perché cioè non mi mette a me quella cosa là cioè è tutto la mia din do dov'è dov'è il buzzurro il buzzurro dove sei il buzzurro e l'azzurro tutto l'anno che sono stati din da din da din da din da din da intervengo da Sassuolo Raspadori ha fatto gol e poi non l'ha fatto come sempre poi ancora e uè zio adesso facciamoli il recupero col Bologna lì ce l'atterisco e poi dopo e din 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 il sorpasso e anche lì sono rimasti fulminati e poi durante l'anno e a Verona l'ha fatto al Verona ecco l'ata ladra cioè mi fanno ridere capito cioè io non ho perché ho creato il personaggio di Malotta Malotta di Zang del buzzurro nera azzurro perché fanno ridere cioè bisogna solo prenderli per il culo perché è una società del genere la vuoi prendere seriamente una squadra che ha 2 miliardi e mezzo di debiti la vuoi prendere seriamente e continua a giocare e tutto dovrebbe sparire dal calcio e allora ridiamoci sopra facciamoci una risata che io ci faccio due risate intanto alla fine incazzarsi perché cosa sapendo che non sono manco una squadra di Milano che fanno parte dell'Interland milanese chi cazzo li caga a questo cioè è meglio riderci sopra a Milano sappiamo che esiste solo una squadra che ha il nome della città anche in ogni parte del mondo where are you from? I'm from Milan le dondere i suoi di Milano io abito già abito a Milano 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 Inter 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 dove cazzo sta? ecco scusatemi eh adesso anche voi intelligentoni che vi fate prendere la seconda squadra ma quale seconda squadra di Milano? non sono proprio di Milano cioè questi qua non contano un cazzo ecco quindi ridiamoci sopra andiamo avanti esame di italiano la Fiorentina prima contro il Tuente bandiera Berardi c'è solo il Sassuolo rinnova fino al 2027 raddoppio del Napoli ecco un MLE tutto fatto per ra ra raspadori ra ra raspadori e dunque ecco la mossa che può sbloccare il colpo ogni edica al Milano ebbene secondo la calzetta dello sport di Milano entro nelle pagine adentro praticamente ogni edica Raffaele che ne stiamo parlando da giorni quasi mi sta venendo una nausea rappresenta ad oggi il primo obiettivo del centrocampo del Milan il Milan ha avanzato un'offerta formale che tra i 4 e 5 milioni con bonus compresi vorrebbe il giocatore l'altra squadra dalla parte lì del Mijanland dicono no ne vogliamo 8 però c'è una situazione che potrebbe far sbloccare tutto l'Ambaradam e sarebbe la cessione di Bakayoko Bakayoko lotta per la curva e per il diavolo e dunque ci vuole che il nostro caro Baka se ne vada fa un giretto lì a Nottingham Forest o in Turchia la Galatasaray a farsi come cacchio si chiama lui è turco lui è isolato quando era l'ultima giornata che si fumava il sigaro sigaro qua sigaro la 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 ecco andate se ne vada in Turchia e quindi potrebbe essere lui la Baka ma attende eh eh tanto non serve a niente ma però c'è anche un Maldini che fiuta l'affarone l'affarone in difesa praticamente sarebbe l'arrivo di Indica Indica che ha un contratto in scadenza del 2023 il Milan vorrebbe arrivare a 10 milioni non di più e noi ci riazziamo lì a giraggio attorno e dunque eh per quanto la situazione di Diallo può essere interessante perché può giocare anche a sinistra il ragazzo eh in ogni caso ehm centrale francese è in rotta con i tedeschi e quindi bisogna vedere se effettivamente poi dice che un anno di scadenza questi qua abbassano le pretese eh vogliono 15 milioni a giocare 10 milioni tutta posto e chiudiamo i conti vediamo 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 nei prossimi giorni letto questo like iscrizione al canale come sempre abbonamenti in basso e se non puoi c'è paypal o conto con ente bancario uguale io ti rivedo oggi in una live molto probabilmente intorno 7 e mezza 8 la faremo un po' prima quando non ho degli ospiti cerco di farla prima invece con gli ospiti normalmente la devo fare sempre dalle 9 perché è più o meno l'ora dove possono partecipare quindi stasera intorno 7 e mezza 8 ci facciamo un'oretta insieme io ti auguro una felice giornata un bacio a tutte le amiche un forte abbraccio a tutti gli amici un bel uuuu a tutta la tribù a hug a hug a hug e sempre Forza Milan ovunque e comunque buona giornata e a dopo ciao